GF VIP, Nicole Murgia tradita dall'ex Bertolacci. Perché è finito il matrimonio? GF VIP. Ormai è di dominio pubblico la notizia per cui Nicole Murgia è entrata nella casa del GF VIP da single. Il suo precedente matrimonio con il suo ex, Andrea Bertolacci è finito, archiviato. Chiuso, e i motivi che hanno portato alla rottura gli ha spiegati molto bene proprio la geffina. Una frase, in particolare, sembra aver colpito particolarmente il pubblico e che lascia intendere che forse il matrimonio sia terminato a causa di un tradimento di lui. Ma sarà vero? Antonella Fiordelisi, chi è l'ex fidanzato Gianluca Benincasa, età, lavoro, foto e Instagram. Nicole Murgia ha avuto una relazione abbastanza intensa con il suo ex, Andrea Bertolacci. La geffina aveva sposato il noto calciatore nell'ormai lontano 2015, e dal loro amore erano nati anche due figli. Ma poi, qualcosa si è incrinato, e l'amorgia stessa ha detto, confidandosi con Luca Onestini all'interno della casa, Io ho sempre detto che se due persone non sono felici insieme, per me è peggio per i figli vedere ogni giorno i due genitori infelici che litigano, che stanno male. Io sono favorevole al fatto che due persone se non stanno più bene insieme, è giusto che si lascino e che possano essere sereni in maniera indipendente, In modo che anche i figli lo possano essere molto di più. Il mio punto di vista era voler dare ai miei figli una famiglia unita, che ormai non c'è più. Ad oggi quello che vogliamo fare è essere due genitori impeccabili e farli stare il meglio possibile. Nicole Murgia, sul tema in questione, ha affermato che la crisi con l'ex marito Andrea sarebbe diventata insanabile proprio nelle ultime settimane. Quindi di recente, poco prima che avvenisse il suo ingresso ufficiale nella casa del reality. Una frattura recentissima, insomma, e molti si aspettano che signorini stesso indaghi sulla vicenda per avere una prospettiva maggiore. Probabilmente, in questi giorni, potremo assistere a qualche importante rivelazione. L'ipotesi, ad ogni modo, sembra essere quella del tradimento, dal momento che prima di entrare nella casa. La ragazza aveva parlato di donne che sfasciano famiglie di uomini che non sanno comportarsi come tali. La Murgia faceva davvero riferimento ad un presunto tradimento. Uite cum rup capete, lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu s-a atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, tine pentru tine. Fii egoist, arlinistit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grafărul din Totto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic, avezi tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să-i...